music never life allora adesso ho firmato un dollaro, prendo la pinza Pierlu e lo vado ad attaccare così arrederò una stanza di dollari, guarda neanche Silvan, vieni Pierlu io penso Pierlu questo è l'arredamento più caro che ho visto in vita mia, tutti i soldi veri, è il locale dei pirati, ho fatto un giro tra i chicco Pierlu Pierlu, 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 ti volevo far vedere queste scale che sono l'ingresso del club dell'aria che si chiama Jewel, vedi cascano tutti i diamanti dalle scale allora Pierlu, siamo arrivati alla fine del nostro tour, stasera abbiamo l'ultima serata del nostro tour Step 1 e siamo a suonare al DREIS After Hours, DREIS è uno dei gruppi più forti da Meria per quanto riguarda l'intrattenimento e quindi siamo molto contenti è stata lunga, è stata lunga e anche un po' diciamo un po' faticosa ma grazie alla dottoressa Venturi, grazie alla dottoressa Venturi, che come sempre alla fine di ogni tour appare nel video grazie alla dottoressa Venturi, vieni qua dottoressa Venturi abbiamo fatto anche questa volta Pierlu un grande tour ci siamo divertiti, è stato bello ti manderemo poi Pierlu ovviamente il resoconto della serata, di come sarà andata stanotte insomma tra poi noi sogniamo alle 5 di mattina 5 più 9 e 14 quindi alle 2 di pomeriggio da te va bene Pierlu? allora da Las Vegas è tutto tour Step 1 finisce qua ciao Pierlu! ciao Pierlu music never lies